La comunicazione del paziente nel trapianto di fegato credo sia un fattore importante per ottenere un miglior risultato post-operatorio. Questo primo perché il trapianto di fegato è un intervento di chirurgia complessa, di chirurgia maggiore e credo che sia quindi fondamentale che il paziente si approcci non solo col chirurgo che deve quindi mettere nero su bianco tutte le possibili complicanze chirurgiche post-trapianto ma anche per esempio con l'epatologo perché deve conoscere le complicanze cliniche non chirurgiche in maniera approfondita quali per esempio il progetto o quali per esempio lo sviluppo di tumori ex novo dopo il trapianto ma anche con l'anestesista che deve chiarire al paziente quali sono gli eventuali problemi post-operatori una volta che il paziente è in reanimazione nella terapia intensiva ma anche per esempio con lo psicologo. Ecco perché il paziente deve avere una conoscenza del trapianto a tutto tondo e quindi un approccio non solo col chirurgo ma anche con altre forme, con altre figure dell'equip. E il secondo motivo per cui credo che questo sia un aspetto fondamentale è perché maggiore è la conoscenza da parte del paziente e credo che migliore sia la compliance dello stesso paziente nel post-operatorio. Quindi per esempio se io spiego bene al paziente quali sono i rischi del rigetto credo di ottenere una migliore capacità del paziente ad assumere correttamente i farmaci. Certo è che è necessaria la collaborazione di tutte queste figure per una migliore comunicazione del paziente in ambito trapiantologico.